L'economia italiana è in stagnazione, lo confermano i dati relativi al secondo trimestre 2016 resi noti dall'Istat. Il PIL è rimasto invariato rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Se agricoltura e servizi hanno mostrato dei lievi segnali di miglioramento, diminuisce invece il valore aggiunto dell'industria, fermi consumi, incano gli investimenti. L'istituto di statistica comunque rivisto al rialzo la stima di crescita del PIL. L'economia italiana è cresciuta nel periodo dello 0,8% contro lo 0,7% indicato in via preliminare il 12 agosto scorso.